Il servizio Ranking Coach ti consente di accedere in qualunque momento alle informazioni generali del tuo profilo, cambiare la foto e scaricare l'applicazione mobile dall'App Store o da Google Play per poi scansionare il QR Code e accedere al tuo account. Vediamo come. Per iniziare, clicca sull'icona del tuo profilo nell'angolo in alto a destra del pannello e seleziona la voce Dati personali. Dalla schermata che appare, puoi modificare l'immagine del profilo caricando una nuova foto presente nel tuo PC. Hai inoltre la possibilità di configurare il servizio Ranking Coach sul tuo dispositivo mobile. Ti basterà scaricare l'app Ranking Coach dallo Store ufficiale del tuo dispositivo, Google Play per Android, Apple Store per iOS. Una volta scaricata l'app, aprila e clicca sopra l'icona indicata per inquadrare il QR Code. Ben fatto! Il QR Code è stato scansionato con successo e adesso puoi accedere rapidamente all'evoluzione online della tua attività con l'app mobile Ranking Coach.